e sapevo che prima o poi sarebbe successo di usare il mio canale per un messaggio sfogo perché questo è veramente un messaggio sfogo in questo momento penso di stare assumendo lo stesso comportamento dei bimbi minchia che attaccano gli altri come fossero leoni di tastiere e che di fatto ho cercato di parlare direttamente con le persone interessate ma mi hanno bloccato e quindi sti cazzi in realtà ne ha già parlato anche la stampa ma io sono caduto dalle nuvole poc'anzi nel momento in cui mi sono ritrovato inserito in un gruppo di 24.000 membri e che praticamente richiede di scendere in strada il 25 aprile ora sarebbe bellissimo perché il 25 aprile comunque una festa nazionale molto importante ed è importante comunque ricordare quello che è successo il problema è che in questo momento c'è una pandemia globale e questo gruppo si presenta con un messaggio ben chiaro un messaggio che ora non trovo ragazzi ragazze continuiamo a crescere noi ne siamo felici noi vogliamo presentarci con quest'audio anche per presentarci a tutte le persone nuove che non ci conoscono allora noi siamo dei cittadini che erano a casa stufi di aspettare che qualcuno prendesse un pochino un'iniziativa di dire guarda facciamo delle passeggiate con le distanze sociali con le mascherine con tutte le dotazioni che ci sono da decreto e però dobbiamo ripartire in questo paese perché non possiamo stare fermi cioè in italia già vigeva una situazione che non era molto comoda no cioè eravamo in un punto un po che stavamo un pochino affondando ecco e quindi con questa cosa qui siamo proprio affondati e dunque che noi cittadini dobbiamo ripartire dobbiamo lavorare perché se non si lavora sapete meglio di me che non si può mangiare insomma si stava mettendo un po di forza insieme ecco per fare questo bellissimo evento perché il 25 di aprile è una giornata di festa quindi noi volevamo scendere in festa per strada non con la violenza come è stato travisato in questi giorni e quindi abbiamo deciso di fare una cosa bellissima che sicuramente piacerà a tutti e io sono sicura che tanti di voi hanno qualcosa da donare agli altri noi non chiediamo soldi perché ma noi non possiamo accettare soldi perché siamo dei cittadini però vi chiediamo a buco cuore vostro di venire privatamente se volete donare vestiti ai bisognosi visto che scenderemo in strada e saremo un bel popolo bisognoso se volete donare dei piccoli pacchi alimentari ci possiamo organizzare se volete avere delle belle iniziative e quindi vi invito a contattarci privatamente a noi amministratori di modo che potete proporre quello che sono le vostre idee per appunto rendere ancora più bella questa festa sempre tenendo conto che c'è un decreto quindi non bisogna fare gli assembramenti si scende per la passeggiata e muniti di mascherine come decreto perché la polizia sarà in strada per proteggere i cittadini volete fare dei pacchi viveri perché vi sentite generosi volete aiutare il prossimo che sta vicino a voi che scenderà in strada con voi potete farlo potete farlo l'importante è che mantenete sempre di staccamento sociale se avete delle delucidazioni domande potete venire in privato quindi con questo vi lascio vi auguro una buona serata e non tergiversate i nostri messaggi perché ci stiamo appunto organizzando sempre di più al meglio e quindi seguiranno altre comunicazioni altre informative e tutto quello che può essere aggiunto alla realizzazione di questa bellissima iniziativa pacifica grazie a tutti allora questo è bene o male il messaggio di presentazione di questo gruppo che attualmente conta 24.136 membri non tutti questi 24.136 erano al corrente che sarebbero stati aggiunti a questo gruppo di conseguenza non credo che siano tutti concordi nel fare questa questa cosa allora la comunicazione scritta che arriva da questo account che è realmanu comunicazione noi siamo il popolo scendiamo in strada pacificamente vogliamo comunicarvi che ci dissociamo da ogni movimento politico e associazioni estremiste non ci dissociamo e non ci dissociamo da ogni gruppo che inneggia la violenza e occupazione di luoghi posti di preghiera e qualsiasi altro luogo di aggregazione perché vi ricordiamo che sono vietati gli assembramenti e noi non vogliamo crearne vi invitiamo pertanto a dissociarvi anche da questi sovversivi che stanno facendo di tutto per dividerci noi vogliamo l'unione del popolo non la disunione e l'odio il punto è che nel momento in cui richiedi a tutti i cittadini di scendere in strada nella stessa data alla stessa ora quando ci sono dei decreti che lo vietano sono dei decreti che vietano di riempire le strade e se tutti escono di casa contemporaneamente indovina un poche cosa succede le strade si riempiono sei mai andato in giro a carnevale quando tutti quanti escono ecco quella è una situazione dove la gente non è nelle case ma è in strada e come sono le strade non lo so l'ultima volta dovevo fare a manganellate per arrivare a mangiare una piadina comunque detto questo loro non vogliono fare un assembramento ma va benissimo andiamo avanti quindi precisiamo noi vogliamo tutelarci e tutelare voi quindi cioè scendete tutti in strada ma non sputatevi in bocca perché potreste effettivamente trasmettere il virus sappiate che ci stanno osservando e non vogliono e non vogliamo essere visti come il male di questo paese di conseguenza la prima azione da fare come popolo unito per la pace e la libertà è infischiarsene dei decreti che arrivano dallo stato consigliamo di scendere in strada muniti di mascherina e guanti a vostra responsabilità se indossarli o no non è nostra responsabilità è una legge è un decreto è un'imposizione dallo stato non è opzionale c'è una certa differenza io ammetto di non essere un'aquila in legge ma non è un'opinione quella se mettere o no la mascherina andiamo avanti ricordate che stiamo andando ad esprimere il nostro dissenso non a violare il decreto ricordatevi che la libertà si ottiene coi passi giusti il dissenso a cosa però non si capisce se non intravedendolo tra le righe e quello che mi sembra di capire è il dissenso nei confronti del decreto quindi noi andiamo a manifestare contro il decreto ma senza violare il decreto e questo è strano questo non si capisce bene comunque ma forse sono solo io che non ce la faccio la violenza non fa per noi questa è una cosa molto bella anche se totalmente fuori luogo secondo me scrive i nostri comunicati ufficiali bla 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 ok allora scusate perché non riesco a trovare il messaggio che avevo letto prima da eccolo qua eccolo qua eccolo qua allora scendiamo in strada per una passeggiata solidale il 25 aprile riprendiamoci la nostra libertà per ritrovare la nostra vita questo di per sé è molto bello come messaggio ritroviamo la nostra libertà è importante anzi bisognerebbe portarlo anche ad altri livelli oltre al fatto di uscire semplicemente di casa comunque con questo evento solidale e i noi cittadini ideatori dell'iniziativa invitiamo tutti coloro che vogliono essere liberi quindi se non aderisci vuol dire che non vuoi essere libero da queste restrizioni a scendere in strada pacificamente per una passeggiata solidale a dimostrazione che la situazione in italia potrebbe essere gestita con le giuste precauzioni ma che comunque possiamo ritornare alle nostre vite e attività le giuste restrizioni sono distanziamento sociale e mascherine secondo loro ora il punto è che per ritornare alle nostre vite le nostre attività come per esempio andare al bar a bere un amaro o a fare l'aperitivo significa violare tutte queste restrizioni vuol dire non non rispettare la distanza di sicurezza vuol dire eludere la quarantena vuol dire fare tutta una serie di azioni che sono state assolutamente vietate ma non per altro per una questione di sicurezza in questo momento c'è una pandemia globale e questo cosa significa significa che c'è un patogeno molto infettivo che in caso di prossimità tra persone può trasmettersi l'idea di scendere tutti quanti in strada alla stessa ora è la peggiore idea che possa venire in mente a qualcuno che vuole evitare questo contagio perché personalmente credo che sia cioè al di là del fatto che veramente le strade si riempirebbero perché ci sono tante persone nei palazzi nelle case e tante persone che sono disposte sui piani tutti quanti scendono in strada e se tutte le persone di un palazzo scendono in strada non occupano soltanto la porzione di strada davanti al palazzo non è complicata però se ci pensi un attimino ci arrivi vorremmo dire a questo stato che noi siamo onesti cittadini per bene che hanno sempre fatto la loro parte per questo paese pagato le tasse e versando i contributi che siamo stanchi di essere reclusi in casa come criminali e siamo stanchi delle continue vessazioni su vessazioni dizionario vessazione maltrattamento continuato per lo più in quanto inflitto a inferiori o persone più deboli sudditi soggetti alle vessazioni del tiranno spesso con riferimento a imposizioni fiscali esuose allora se definisci la quarantena che la quarantena che stiamo rispettando una vessazione come mi definisci un governo che ti sfonda la porta di casa entra prende i tuoi beni soltanto perché ha espresso un'opinione politica contraria a quella del tiranno in quel caso come la chiami se vessazione è la richiesta di rimanere in casa durante una pandemia globale capisci che nel momento in cui dovrai descrivere una cosa del genere non ci sarà una non puoi metterlo sullo stesso livello non può essere una vessazione anche quella è una questione di di lessico non io non sono un linguista non sono un linguista meno discosto assolutamente ciao micchi ma se questa è una vessazione allora quella che cos'è andiamo avanti con la lettura a per chi volesse per chi volesse siamo solidali dando un pacco di pasta simbolico ai più bisognosi poi nel messaggio invece dice se vi va portate un pacco di pasta e lo potete donare potete donare dei vestiti per esempio non a pepuzza è morta di covid dona i suoi vestiti a qualcun altro di modo che possa trasmettersi vogliamo far ripartire il paese riaprendo al più presto le nostre attività aziende e tutto il settore lavorativo e sociale allora il problema di far ripartire attività pubbliche io sono un drogato di sushi e davvero sono in astinenza seria anche perché sono pessimo a cucinare di conseguenza non me lo posso neanche fare in casa sono il primo a dire vorrei farlo ma non si può perché se riapri le attività a meno che non riapri solo il settore produttivo che hey ha già riaperto tutto quello che riguarda il contatto con la clientela negozi già i supermercati sono un rischio ma sono stati un rischio necessario perché era necessario far comprare da mangiare le persone è un'azione da irresponsabili vogliamo essere liberi di andare dove preferiamo come da costituzione ma con le giuste precauzioni e siamo stanchi di subire questa continua manipolazione psicologica tramite i media mainstream questo è gergo da complottisti è meraviglioso gergo da complottisti dimostreremo ad oltranza il nostro dissenso nei confronti della linea di governo che è stata intrapresa sempre nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti ora ma se il governo ti fa una legge e tu vuoi infrangerla per dimostrare che non dai consenso a questo governo una delle due cose esclude l'altra cioè è contraddittoria tu dici vogliamo rispettare tutte le leggi ma non vogliamo rispettare le leggi magari nei commenti mettetemi se non siete d'accordo se ho detto qualche cosa di sbagliato ma io quello che leggo è questo l'emergenza è stata dichiarata in gazzetta ufficiale il 31 gennaio 2020 si è atteso a nostro avviso irresponsabilmente per oltre un mese a mettere in atto provvedimenti idonei tipo la quarantena? tipo quella che adesso volete togliere? proprio questo ha portato ad un eccesso di norme restrittive nella libertà personale nella fase successiva con conseguente fallimento economico, sociale e dalle relazioni sociali io chiedo scusa ma sono un po' distante dallo schermo per rimanere in favore di camera so che non sono un bello spettacolo il mondo aspetta un messaggio anche dal nostro paese per il futuro della nazione va benissimo credo che questo loro messaggio sia stato scritto un po' frettolosamente senza rileggerlo vabbè lasciamo perdere eventuali errori di periodi di frasi un po' sconnesse punteggiatura buttata dentro a manciate il discorso è abbastanza semplice vuoi dissentire siamo tutti stanchi siamo tutti è una rottura di coglioni cioè adesso mi dispiace dire parolacce su su uno strumento pubblico però è una rottura di scatole vogliamo edulcorare io stesso non vedo la mia famiglia non abbraccio la mia mamma da un mese e mezzo non abbraccio la mia fidanzata da un mese e mezzo perché? perché c'è una restrizione è dura mi dispiace mi mancano ma non per questo io passo davanti a casa della mia fidanzata tutti i giorni tornando dal lavoro io sono una di quelle persone fortunate che lavora in un settore che in questo momento è stato riavviato ma non mi sognerei mai di suonarle il campanello e di abbracciarle e di darle un bacio perché se io sono asintomatico e lei rientra in casa è infetta sua nonna o sua mamma o suo papà capite che è una questione di responsabilità comunque ditemi veramente nei commenti che cosa ne pensate di quello di cui stiamo parlando il fatto che l'emergenza sia stata dichiarata il 31 gennaio teoricamente avremmo dovuto partire da subito con la quarantena perché è evidente che il popolo italiano non è in grado di autoregolarsi se fossimo stati in grado di farlo nel momento in cui suggerivano di non fare assembramenti di rimanere in casa il più possibile nel momento in cui potevamo ancora andare in giro ma mantenendo le distanze se noi davvero l'avessimo fatto invece di fare gli aperitivi contro la solitudine da covid o le cene con 50 persone contro l'isolamento da coronavirus allora a quel punto forse quelle azioni avrebbero avuto effetto successivamente è stato necessario dire no ragazzi così non va non siete in grado di autogestirvi allora il governo ha emesso dei decreti ok detto questo mi dispiace aver utilizzato il canale per un'argomentazione che non riguarda il making che non riguarda personaggi del passato che non riguarda scienza che non riguarda divulgazione scientifica vera e propria il punto è che trovo che azioni del genere siano pericolose persone che si improvvisano legislatori o comunque che si improvvisano condottieri del popolo senza sapere quello che stanno facendo è un'azione pericolosa per favore il 25 aprile festeggiate perché è giusto festeggiare rimanendo in casa è uno sforzo che dobbiamo fare tutti lo stiamo facendo tutti continuiamo a farlo e non mandiamo a puttane tutto quanto grazie a tutti